Creare un ambiente umido è ideale per velocizzare il processo di guarigione di una lesione. Quando si devono gestire lesioni altamente essudanti con slough, cavità e sottominature, è necessario affidarsi a prodotti di qualità. Alcune medicazioni in fibra gelificante non gestiscono correttamente l'essudato. Ciò può comportare un rischio di macerazione ed infezione. Che possono ritardare il processo di guarigione di una lesione. Quando entrano in contatto con l'essudato, alcune medicazioni in fibra gelificante si restringono, andando a formare spazi vuoti fra la medicazione ed il letto di lesione. Ciò porta a macerazione ed infezione del sito di lesione. Se una medicazione non è sufficientemente resistente, quando entra in contatto con i liquidi, al momento della sua sostituzione possono rimanere residui di prodotto sul fondo di lesione. Diventa quindi essenziale avere un prodotto che affronti queste sfide. E Biotane Fiber, con Exaloc Technology, è stato pensato per risolverle. Grazie all'esclusiva struttura in carbossimetilcellulosa sodica pura, 100% CMCNA, strutturata in unità esagonali termosaldate tra loro, Biotane Fiber assorbe efficacemente essudato i batteri, intrappolandoli nella sua struttura esagonale, minimizzando il rischio di infezione e macerazione, limitando i cattivi odori. Biotane Fiber, a contatto con essudato i batteri, mantiene la propria struttura prevenendo la formazione di spazi morti e l'accumulo di essudato. Quando entra in contatto con l'essudato, Biotane Fiber si microconforma e gelifica. Inoltre si rimuove facilmente in un unico pezzo, senza lasciare residui sulla lesione e senza provocare dolore al paziente. Biotane Fiber, la nuova medicazione in fibra gelificante con Exaloc Technology, sviluppata dai professionisti sanitari per i professionisti sanitari. Blocca l'essudato e di batteri. Restringimento minimo. Gel coesivo per una rimozione atraumatica, senza lasciare residui. Biotane Fiber, la forza della Exaloc Technology. Biotane Fiber, la forza della Exaloc Technology.